Abru, Abruzzo Biglietto Regionale Unico, è la proposta avanzata dall'opposizione in Consiglio regionale per consentire a tutti i cittadini di muoversi liberamente con un unico biglietto a tariffa fissa 1,40 euro a centesimi con validità giornaliera e su tutte le linee, indipendentemente dalle tratte percorse e dai mezzi usati. Il progetto è stato presentato nel corso di una conferenza stampa all'Aquila, si tratta di un metodo partecipativo che mette al centro dell'azione politica tutti i 305 comuni abruzzesi, un'iniziativa che per il capogruppo di patto per l'Abruzzo Luciano D'Amico ha molti benefici. In realtà esiste già un biglietto unico valido per l'area metropolitana di Pescara e Chieti, indipendentemente dalla tratta percorsa, un modello che va esteso evidentemente a tutto il territorio regionale. L'iniziativa delle opposizioni propone di ampliare le agevolazioni per i lavoratori pendolari e di rendere gratuito il trasporto per gli studenti, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado e le università, così come avviene in altre regioni italiane. Tariffa fissa, biglietto unico potrebbe essere questo, un abru, 1,40 euro per viaggiare in tutta la regione con qualsiasi concessionario, indipendentemente dai chilometri percorsi. Questo agevolerebbe le aree interne, agevolerebbe lo stesso turismo e renderebbe più equa il servizio, il pagamento, il servizio di trasporto pubblico locale per tutti gli abruzzesi. Un progetto che numeri alla mano appare fattibile per D'Amico. Le opposizioni hanno presentato anche un ordine del giorno allegato per i vari consigli comunali che sperano tutti possano far proprio per manifestare alla regione la volontà di istituire abru. Ovviamente non si è ancora nella fase della proposta di legge perché prima, dice D'Amico, si vuole dialogare con la maggioranza. Noi siamo assolutamente disponibili, il Consiglio regionale e il luogo deputato per discutere nella sostanza dei problemi. Quindi saremo felicissimi di poterne discutere. Oggi presenteremo il progetto e chiederemo ai 305 consigli comunali della regione Abruzzo di farlo proprio con una mozione, votando un ordine del giorno, che impegni la regione tutta a valutare la fattibilità di questa operazione. Grazie.